buongiorno video post liverpool cardiff vittoria 4 a 1 che dire vittoria che era obbligatoria visto il contemporaneo in giornata sfida fra city e tottenham che potrebbe ne dubito ma potrebbe togliere qualche punto al city a noi servivano tre punti per mantenere la classifica al primo posto e servivano anche un discreto numero di gol di scarto tre vanno benissimo anche se il risultato giusto di questa partita è 5 6 a 0 ne esce un 4 a 1 che comunque più che soddisfacente peccato per il gol subito perché un gol che arriva per palese sufficienza dell'intervento difensivo sia di van dyck sia di di alison che si addormentano su più bello e l'attaccante avversario come al solito tocca la palla e quella non può far altro che andare in porta una palla toccata nella metà al campo del liverpool in tutta la partita e se ne va in porta poco male perché anzi forse meglio perché abbiamo dimostrato grandissimo carattere visto che poco dopo arriva il 3 a 1 di shakir che chiude la partita e poi alla fine il 4 a 1 di manè bellissimo tra l'altro con assist perfetto di salat che rende il risultato un po più tondo e un po più realistico rispetto a quello visto in campo partita stellare di salat appunto che fa un gol e due assist di cui l'ultimo detto ora meraviglioso salat è tornato su livelli abituali della scorsa stagione non avevo nessun tipo di dubbio ero sempre stato tranquillo era chiaro che l'inizio soppicante fosse da imputarsi a una preparazione atletica più pesante e a questi cazzo di mondiali di merda per quanto quando è tornato era fuori forma si vedeva segnava un po meno un po meno lucido correva un po meno durata un mesetto e mezzo questo questa fase ora da 3 4 partite è tornato il vero salat sta segnando a ripetizione fa assist corre insomma salat è qui visto che qualcuno aveva dubbi sul fatto che avesse azzeccato una stagione per miracoli da cinque sei stagioni che fa il fenomeno l'arte hanno esploso definitivamente quest'anno ovviamente si riconfermerà partita eccellente anche di manè anche lui in netta ripresa rispetto agli addormentamenti pre pausa nazionale due gol di cui no no di cui entrambi belli specialmente il primo gol di di furbizia di potenza partita altra parte eccellente di fabinio anche lui alla fine la tattica di di club di non inserirlo subito di botto evidentemente non era ancora in forma nel primo mese ora invece già due partite da titolare già già due ottime partite partita eccellente di shakiri anche se ha giocato poco ma entra fa gol è un gol bellissimo forse più bello della giornata con un gioco di gambe pazzesco si conferma uno dei 34 giocatori più informe della squadra altra altro giocatore che ha brillato solo canaldum che al momento è il nostro centrocampista più in forma insomma tantissime note positive da ieri forse un po un po in calo firmino un po in calo firmino che ieri forse tappato dalla grandissima prestazione di manè salando non ha avuto né modo né tantomeno il bisogno di di fare grandi cose la difesa come al solito penso che perfetta eccetto per quel gol che era evitabilissimo bastava che van dyke toccasse con un po più di decisione il gol non sarebbe arrivato oppure allison si buttasse con più decisione sulla palla e quello è un gol che non prendi mai da dire c'è poco altro aspettiamo magister city tottenham che giocano alle che giocano alle no domani addirittura tottenham magister city alle 9 se il tottenham riuscì il meglio sarebbe un pareggio un pareggio leva due punti calziti ci lascerebbe prima in solitario e nel contempo eviterebbe un po troppi avvicinamenti da parte del tottenham che ora in caso di vittoria rimarrebbe a meno due a meno tre un pareggio risultato ideale e per il resto niente da dire partita giocata sul velluto senza tanti senza tanti patemi e stagione che si conferma ottima come come solo avvio stiamo andando come treni dopo quel mese maledetto di tantissimi impegni abbiamo ripreso a marciare contro il vittore di seguito di cui non champions tanti gol uno subito e niente andiamo avanti come treni ci vediamo al prossimo video è sempre forza libero ciao